Ciao a tutti i mesi, siamo qui in un nuovo video apertura di uova di Pasqua 2023 Allora oggi andremo ad aprire un nuovo Dolphin, molto carino, molto particolare, super nuovo, 2023, non ne ho mai visti così e sto parlando dell'uovo delle Mermaids, eccolo qua e questo è cioccolato al latte, è super carino anche la cat è tutta olografica, guardate che bella, piace un sacco qua ci fa vedere tre sorprese possibili, dice luccicanti sorprese per sirene queste sono, innanzitutto se non le conoscete, sono delle bambole che appunto sono delle sirene le trovate insomma nei negozi di giocattoli oppure nei supermercati insomma sono molto belle, con gli occhi in vetro, veri, o in resina insomma, molto carine io non le ho mai prese perché costano un po' e poi non sono più tanto in vena di collezionare bambole però sono veramente fatte bene, quindi ve le consiglio in caso e qua ci fa vedere un fermacapelli, un elastico insomma luccicante con disegnate le Mermaids questo qua che è un block note con le varie Mermaids e poi questa coda di sirena che ce l'ho già una simile diciamo di quelle uscite in edicola insomma quindi non solo dei Mermaids però va bene, carina comunque e questo è un uovo da 220 grammi, lo trovate al supermercato per 9,90€ io l'ho preso online perché non riuscivo a trovarlo, poi è arrivato anche da me però vabbè ormai l'avevo ordinato e quindi ci ho pagato in più anche le spedizioni, però non costa tanto insomma quindi un buon uovo diciamo e non so com'è quello della Dolphin perché mi sa che io non l'ho mai mangiato il cioccolato della Dolphin fatemi sapere nei commenti se vi piace e ora direi di andare ad aprirlo, senza glutine ovviamente tra queste sorprese, ora dico queste due ma vedrete che troverò qualcosa che non mi piace però vabbè non fa niente l'elastico ovviamente mi sarebbe più utile perché niente, li uso spesso gli elastici avendo i capelli lunghi anche questo mi sa molto carino, però andiamo a vedere apriamolo e ovviamente restai sintonizzati per altre aperture uova di Pasqua perché ne ho altre da aprire quindi mi raccomando restai sintonizzati e vedetevi quelle che ho già aperto perché ne ho aperte un sacco adesso lo andiamo a spacchettare insieme e vediamo chi trovo, se riesco ad aprirlo mi sa che lo devo tagliare ok ce l'ho fatta, andiamo un po' adesso lo apriamo la carta è carinissima tra l'altro, guardate ci sono tutte le varie mermezze diverse vedete, aspettate, ecco, vedete carine, molto carine adesso apriamolo allora questo è l'uovo è piccolino perché 220 grammi e qua c'è il classico barattolino diciamo che è anche grande, potete usarlo come portapenne volendo quindi andiamo ad aprirlo 1, 2 e 3 ecco qua, lo sapevo ne ero sicura, certa al 100% allora ho trovato la codina che era quella che volevo un po' meno però c'è la cosa carina e cioè che c'è la scritta mermaids in gomma diciamo, in silicone quindi quello è carino volendo potete anche usare anche solo questo per portachiavi però carino comunque adesso lo andiamo a spacchettare ma prima voglio assaggiare il cioccolato ovviamente allora, buono non male sì, un pochino chimico ma non male finora quello che mi è piaciuto di meno è quello dolci preziosi gli altri cioccolati mi sono piaciuti tutti adesso andiamo a spacchettarlo eccoci, allora apriamolo spero di non sporcare troppo ed ecco qua la sorpresina carina, devo dire, molto carina allora c'è appunto questo il loro logo insomma mermaids dietro è così e è in silicone qua c'è la codina che se girata cambia colore e diventa argentata carina molto carina dietro è uguale come portachiavi è molto carino io purtroppo ripeto avendo una cosa simile non è una cosa di cui avevo strabisogno però è molto cute quindi se vi piace ve lo consiglio non so se ne prenderò un altro di uova adesso devo vedere in caso ve lo riapro sul canale oppure in uno shorts adesso vediamo un po' comunque carino, dai mi piace quindi questa è la sorpresina di oggi fatemi sapere se vi è piaciuta nei commenti mi sembra un uovo molto carino anche per il prezzo insomma se lo trovate in giro ve lo consiglio se vi piacciono le mermaids noi ci vediamo in un prossimo video ricordatevi di scrivermi sotto nei commenti quali altre uova volete vedere aperte sul canale o quali avete aperto voi noi ci vediamo in un prossimo video se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao